...foto di scaldare, diversi per recuperare scaldano, coltivando i fiori in piena area. Allora, se vedete qua in inverno, magari anche dall'autostrada, vedrete ogni tanto delle macchie di colore, perché coltivano i ramuntoli, coltivano gli anemoni, coltivano il mare. L'importante, che è venuta a Sanremo, era la tarina di Russia, Maria Alessandrotta, nel 1874, viene a Sanremo e passa all'inverno. E viene, non da solo, adesso però hanno cent'anni, ecco, vediamo. Quindi ci sbustiamo un po' al prossimo personaggio. ... ... ... ... ... Buon appetito! Grazie a tutti.